Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana del Tg di TvCity. In apertura sempre l'emergenza sanitaria. Ieri sera il Ministro della Salute Speranza è intervenuto a RAI3 anticipando le ulteriori misure di prevenzione che saranno contenute nel prossimo DPCM. Intanto facciamo il punto della situazione contagi anche nella provincia di Napoli. Weekend nero per la città di Torre del Greco con 13 casi in più. Sono 43 quelli in isolamento domiciliare e 2 gli ospedalizzati. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della polizia a Napoli. Sequestrati 13 quintali di capi d'abbigliamento falsi. Poi la politica. Ci spostiamo ad Ercolano. Dopo la proclamazione del sindaco Buonaiuto abbiamo chiesto ai cittadini criticità e problemi da affrontare. Fervono i preparativi nella Basilica di Santa Croce per tre giorni di eventi in occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. Infine la consueta pagina sportiva del lunedì con la Turris che ieri ha espugnato il campo del Bisceglie. 9 punti in tre partite. Prossima sfida casalinga con il Monopoli. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ulteriore chiusura dal governo. Al bando, feste in casa e calcetto. Il ministro della salute, Roberto Speranza, è stato ospite ieri sera a Che Tempo Che Fa, storico programma di Fabio Fazio su Rai 3. In diretta, Speranza ha anticipato ulteriori misure di prevenzione del contagio che verranno adottate dall'ormai attesissimo prossimo di PCM. Il decreto doveva essere pubblicato la settimana scorsa ed avrebbe dovuto imporre nuove limitazioni in tutta Italia, come l'obbligo di mascherine all'aperto ed in ogni ora del giorno. Una stretta necessaria, visto l'aumento dei contagi in tutta la penisola e la proroga dello stato di emergenza almeno fino al 31 gennaio 2021. Il ministro conferma l'irrigidimento e l'enorme anticontagio e rilancia. Siamo costretti a stringere le maglie dopo settimane in misure che le allargavano. La maggior parte dei contagi sta avvenendo nell'ambito familiare, afferma Speranza. È per questo motivo che il nuovo di PCM vieterà qualunque tipo di festa privata, anche in casa. Non sarà più possibile invitare amici e parenti anche solo per una cena conviviale. La questione ha già sollevato le prime polemiche, soprattutto riguardo alle modalità con cui verrà controllato il rispetto di tale limitazione. Alla domanda di Fazio, Speranza ha risposto candidamente. Confidiamo in numerose segnalazioni dei cittadini. Un vero e proprio invito alla delazione che potrebbe far insorgere contrasti fra il vicinato o addirittura segnalazioni fasulle. Si lavora anche sugli orari di chiusura di bar e ristoranti, misura già adottata in campania al presidente De Luca, con l'introduzione del coprifuoco dopo le 23. Tale limite orario potrebbe quindi essere steso a tutto il paese. Fermi anche incontri sportivi amatoriali, come la classica partita di calcetto con gli amici. Il ministro spera di arrivare alla firma del decreto entro domani sera, ma sicuramente in settimana queste nuove regole diverranno ufficiali. Intanto, ieri pomeriggio, il governatore De Luca ha lanciato in diretta su Facebook un appello a tutti i cittadini della campania. Chiediamo ai nostri concittadini di indossare sempre la mascherina. Se siamo prudenti e responsabili, risolviamo il 90% dei problemi. Se siamo irresponsabili, la situazione si aggrava. Noi le decisioni che prendiamo non le prendiamo a prescindere. Dobbiamo seguire quotidianamente la curva epidemiologica. Stiamo facendo di tutto, ovviamente, per tenere sotto controllo la situazione. Ma è indispensabile la collaborazione dei nostri concittadini. Ripeto ancora una volta che, se indossiamo sempre la mascherina, risolviamo il 90% dei problemi. È una ricetta molto semplice. Ma è evidente che se ci troviamo di fronte all'alternativa, o teniamo tutto aperto, o facciamo morire la gente, mi pare evidente quale sarà la scelta. Noi speriamo di non dover arrivare ad alternative drammatiche come questa. Però dobbiamo collaborare tutti. Continua a crescere il numero dei contagiati da Covid-19 a Torre del Greco. Allarmano i dati dell'ultima settimana, con particolare attenzione per i 13 positivi registrati nel weekend. Ieri sera, prensioni all'ospedale Maresca. Molte le persone sospettate di contagio restano in attesa del tampone. Chiusura straordinaria per l'Istituto Superiore Eugenio Pantaleo, di Torre del Greco. La decisione del dirigente scolastico Giuseppe Mingione, assunta nella serata di ieri, nasce dalla volontà di prevenire il diffondersi di infondati allarmismi in merito a presunti contagi da Covid-19. Per l'occasione gli studenti effettueranno la didattica a distanza. La scuola riaprirà regolarmente domani, 13 ottobre, dopo la sanificazione degli ambienti. A Torre Annunziata due nuovi contagi. Si tratta di due donne poste in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva. Sale dunque a 41 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus nella città Oplontina, dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sempre a Torre Annunziata, velocizzate le operazioni di tracciabilità dei positivi. Attivo il casello per la diagnosi del Covid-19, la tendo struttura, installata presso il parcheggio dipendenti della Casa Comunale di Via Provinciale Schiti 51, sarà operativa da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. A Portici 57 contagi tra ospiti e dipendenti nella Casa di Riposo Pio XII. Le loro condizioni restano stabili. Per quanto riguarda i contagi in città, al momento, escludendo quelli della Casa di Riposo, sono 48 i positivi, di cui 4 ricoverati in ospedale e 44 in isolamento domiciliare. Complessivamente 10 positivi nelle scuole. Sequestrati a Napoli 13 quintali di abiti falsi. Ieri mattina, due agenti del commissariato vicario a mercato, non in servizio, transitando in via Pietro Colletta, hanno notato una persona che stava trasportando una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi capi di abbigliamento. I poliziotti hanno seguito l'uomo, che, alla vista di una volante sopraggiunta come rinforzo, è entrato velocemente in uno stabile, dove è stato bloccato e trovato in possesso di numerosi giubbotti contraffatti contenuti nel sacco. I poliziotti hanno controllato i locali in cui hanno rinvenuto numerosi bustoni contenenti oltre 13 quintali di capi di abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti, nonché numerose etichette di note griff. Il 37enne senegalese è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro. Questione rifiuti, manutenzione stradale e scarso impiego dei giovani in ambito lavorativo. I cittadini di Ercolano, intervenuti ai nostri microfoni, fanno appello all'operato del sindaco, chiedendo soluzioni per queste problematiche. Intanto, il rieletto sindaco Ciro Buonaiuto punta ad una ripartenza nel segno della continuità, riprendendo un percorso intrapreso nei precedenti cinque anni di amministrazione. Nel giorno della programmazione ufficiale, il primo cittadino si è pronunciato ribadendo la necessità di costruire un futuro basato su turismo, cultura e legalità. Fino a te è il migliore sindaco che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni. Quindi è contento del secondo mandato di Buonaiuto? Sì. Avrebbe qualcosa da proporre al rieletto sindaco? Sì, di pulire la città è molto sporca. Quindi la pulizia della città è una delle problematiche? Non è la prima, perché quando lavoriamo è piena di spazzatura, dappertutto, soprattutto la zona alta. Ci sono altre problematiche che la giunta comunale deve affrontare? Sono tutte quelle cose, sono le strade piene di buche e altre cose ancora. Che lo sindaco lo savero. Ciro Buonaiuto è stato un sindaco molto attento, sia alla cittadinanza e anche nell'ambito del lockdown che abbiamo avuto. Cosa può fare ancora per la città? Può fare un pochettino più per la spazzatura. Perché noi a Ercolano siamo l'unico comune che paghiamo di più, di tutti i comuni. Ci sono persone che non pagano e si lamentano anche. Quindi io spero che facciamo qualcosa per la spazzatura. Poi le altre cose ci vorrebbero un aggiornato. È qualcosa per lo sport anche. Per lo sport, perché i ragazzi, qua a Ercolano non abbiamo avuto mai un palazzetto dello sport. Io penso che Buonaiuto sta facendo cose belle. Poi Ercolano per me è molto bella. O perché la mia città è ricca di tante cose. Turismo, cultura e legalità. Queste le parole del rialetto sindaco Ciro Buonaiuto nel giorno dell'insediamento ufficiale. Cosa ne pensa da cittadino? Penso che in questo momento a livello di riapertura è un po' difficile. Perché con questo coronavirus che sta correndo è un po' difficile la situazione. Ciro Buonaiuto, fino adesso guarda, io sono 50 anni che sono qui. E ho fatto sempre delle cose bene. Turismo, cultura e legalità. Queste le parole del rialetto sindaco Ciro Buonaiuto nel giorno dell'insediamento ufficiale. Cosa ne pensa da cittadino? Ma la cosa ne pensa è che Ercolano stiamo un po' rovinati ancora su questo argomento qua. Certamente si può migliorare con progetti e altre cose varie per i giovani. Soprattutto per creare posti di lavoro. Bisogna muoversi quindi sul fronte giovani maggiormente, secondo lei? Certamente, anche per riqualificare un po' la città che è rimasta ancora quella di 50 anni fa. Stiamo un po' arretrati rispetto all'aggiunta nuova, sperando che si inziati a presto e faccia qualcosa di nuovo rispetto ai 5 anni precedenti. Ci sono altre problematiche da affrontare? Quando riguarda il trasporto stiamo proprio rovinati perché ci vogliono i mezzi pubblici comunali che vanno dappertutto, anche per le periferie di San Vito, Benedetto Cozzolino, Cimitero e quanto altro. E le periferie alte diciamo. Tre giorni di eventi per ricordare una pagina della storia della città di Torre del Greco, indelebile nella memoria e nel cuore di tutti i torresi. Il 14 ottobre 2018, l'uprevet faticatore fu proclamato santo da Papa Francesco in una piazza San Pietro gremita. In occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, in programma nella Basilica Pontificia di Santa Croce, momenti di preghiera e celebrazioni. Saranno dei momenti di ricordo, di celebrazione, dei giorni indimenticabili della canonizzazione di San Vincenzo Romano a piazza San Pietro con Papa Francesco. A dire il vero c'è anche un po' di amaro, perché il 10 avremmo dovuto celebrare la Notte Sacra, quel grande momento aggregativo che mette in evidenza tutti i siti storici e archeologici del centro storico, animato da tante realtà giovanili. Speriamo di poterlo ripetere in avvenire. Noi avremo tanti momenti celebrativi e anche di preghiera. Cominceremo 13 alle 19. Ci sarà un libro, Admirabili dei Provvidenza, del caro amico e giornalista Giuseppe Sbarra, che ha messo insieme ricordi, immagini, riflessioni su quei giorni di grazia. E ci aiuteranno a sbulciare un po' questo testo che sarà disponibile in Basilica, padre Luigi Carillo, che è un padre nostro, torrese, francescano, il quale ha fatto una fatica immane, ha trascritto tutte le prediche di San Vincenzo. E ci aiuterà a sbulciare questo testo, Admirabile dei Provvidenza, anche il caro amico giornalista Paolo Mainiero. Ma non può mancare il momento liturgico della preghiera, della lode a Dio. E per cui proprio mercoledì, 14 ottobre, a due anni dalla canonizzazione, avremo la celebrazione della Messa. E sarà la prima volta che sarà utilizzato il formulario della nuova Messa in onore di San Vincenzo. È un formulario autorizzato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. E proprio perché ci sono questi nuovi testi, verrà celebrato padre Corrado Maggiori, che è proprio della Congregazione. E infine giovedì, che è il giovedì sacerdotale, anche il giovedì eucaristico, avremo un altro momento significativo. Sarà presentato il testo Fai vivere e santifichi l'universo. È un testo sull'eucaristia del professore Giuseppe Falanca, che lavora presso la nostra facoltà teologica, che ha portato avanti proprio una riflessione sull'eucaristia. Ed è un momento bello e opportuno presentarlo proprio nella chiesa del parroco dell'eucaristia, San Vincenzo Romano. E per l'occasione avremo eccezionalmente qui con noi padre Enzo Fortunato, che è legato alla nostra città, che è il direttore della sala stampa del Sacro Convento in Assisi. E seguirà, seguirà subito dopo la presentazione del testo, l'adorazione dell'eucaristia, come facciamo tutti i giovedì. L'eucaristia, come diceva San Vincenzo Romano, il tesoro infinito della vita cristiana. Ci raduneremo con tutte le precauzioni del decreto Covid, per cui raggiunti i 200 posti disponibili in Basilica, le porte della Basilica saranno chiuse, ma sarà possibile seguire in diretta su TV City e anche sulla pagina Facebook della Basilica. In questo momento così particolare dobbiamo aiutarci anche e soprattutto con i mezzi della comunicazione. A tutti buon cammino nel solco del parroco santo. Professor Giuseppe Falanga, un libro dedicato all'eucaristia. Sì, sono molto grato a Don Giosuè che ha voluto inserire nel programma delle celebrazioni per il secondo anniversario della canonizzazione del nostro parroco santo, anche la presentazione del mio ultimo testo sull'eucaristia. 40 anni fa tutto è cominciato per me sull'altare di Santa Croce e tra qualche giorno ai piedi di questo altare presenteremo questa mia piccola fatica che è nata prima della pandemia. Ho finito di scriverlo a dicembre e mai avrei immaginato che poi durante il lockdown e in questi mesi i due argomenti principali sia del pontificato di Papa Francesco sia della Chiesa fossero appunto il creato, la creazione e l'eucaristia che sono i due temi del mio libro. Lì dove appunto nell'introduzione io dico che i due tesori principali, le due teche che custodiscono l'amore di Dio per l'umanità sono appunto l'eucaristia dove c'è tutto l'amore di Cristo per la Chiesa, suo corpo e la creazione dove necessita sempre più e lo stiamo vedendo sta ritornando sempre più alla cronaca alla laudato sì di Papa Francesco e l'ultima enciclica Fratelli Tutti filmata proprio una settimana fa sulla tomba di San Francesco e dicevo dunque lo stiamo vedendo l'importanza del vivere con Sora Nostra Madre Terra, con Frate Sole, con Sora Acqua in una convivenza che non sia solo di sfruttamento ma che sia appunto di rispetto della natura della creazione del mondo che ci è stato dato in dono da Dio. La Turris espugna Bisceglie nella trasferta di domenica sera e si porta al secondo posto in solitare con nove punti, uno in meno al Bari ma con un match da recuperare. Nel primo tempo sono i Corallini a fare la partita, i Biancorossi colpiscono la traversa con Loreto al sedicesimo e vanno di nuovo vicino al vantaggio prima con Persano al ventunesimo e poi con Giannone al minuto 33. Quasi dieci minuti dopo è proprio Giannone a sbloccare il match. Franco sulla sinistra cross in area di prima e trova Pandolfi che si vede respingere il tiro. Sulla ribattuta è bravo Giannone a spingere il pallone in rete. Il numero dieci Biancorosso sta mostrando grande continuità e sembra in ottima forma in vista dei prossimi match. Nel secondo tempo, nonostante diverse occasioni create dai Corallini, è il Bisceglie a spingere di più, andando anche vicino al pareggio. La Turris si conferma quindi una delle squadre più in forma del campionato, nove punti in tre partite e l'incontro con l'Avellino ancora da giocare. Ora testa la prossima sfida casalinga con il Monopoli, con mister Fabiano che a differenza dello scorso anno si dice pronto a cambiare schieramento a seconda della partita degli avversari. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scrivere alla mail redazione chiocciolatvcity.it oppure chiamare al numero 3406561 484. Appuntamento a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Grazie a tutti per la cortese attenzione.